Il famigerato Hank Palmer, il disincantato avvocato senza rispetto per la legge. L'ho fatto veramente? Come si sta a sapere che ogni persona che rappresenti è colpevole? Si sta bene. Per gli innocenti costo troppo. Vieni, c'è altro che gli avvocati vogliono aggiungere? Mia madre è mancata stamattina. È la prima volta che tua madre viene a mancare o lo fai per tutte le cause che stai per perdere? Prima volta. Quindi nonno Palmer è morto anche lui? No, nonno Palmer è morto per me. È un modo di dire, capisci? È troppo complicato. Dovrei venire con te. Fidati. Nessuno vuole andare a Carlin di Lilliana. Oddio, ci siamo. A malapena supportiamo di guardarci. Henry. Giudice. Sì. Hank, grazie di essere venuto. Di sicuro a tua madre avrebbe fatto piacere. Hank Palmer. Hank, sceriffo White. Si tratta di suo padre. Il più grande errore della tua carriera è tu, guarda caso, lo investi. Hanno trovato tracce di sangue sull'auto di suo padre. Sono stato sul banco di quell'aula per 42 anni. È stato un incidente, punto. Ci serve una solida linea di difesa. Non voglio che ti impicci, Henry. Lo sai che mi piace poco. Sì. È un avvocato. Lui è tuo padre. Vattene ora e te ne pentirai. Lei è una moneta di legno lucidata, signor Palmer. Riuscirò a inchiodare il suo cliente con un omicidio di primo grado. E lei sarà in prima fila. Mio padre ha un sacco di cose sgradevoli, ma non è un assassino. Ho bei ricordi di noi due. Poi non più. Perché? Sono stato duro? Sì. Ho fatto quello che ritenevo giusto. Per esperienza, Hank, a volte devi perdonare per essere perdonato. Io e te abbiamo chiuso. No, non ancora. Io e te abbiamo chiuso.